Buongiorno team, allora cercherò di rispondere a tutte le domande che mi sono arrivate riguardo il post precedente sull'alta formazione come preparatore atletico e bootcamp trainer che si terrà qui a Udine. Riceverete due diplomi, uno rilasciato dall'ACLI che è una federazione comunque sempre sotto il CONI come preparatore atletico OCR e l'altro come preparatore atletico militare dall'area ESURGIT che è uno degli operatori più importanti nel settore della difesa. Ovviamente saranno due giornate full immersion di cui ci saranno poi quattro esami. Non vi spaventate di già perché comunque sarete sempre affiancati e poi il relatore è davvero molto bravo. Dopo vi posto anche tutto il suo curriculum. La figata ulteriore è che una volta che avete partecipato al corso potete accedere a tutti i corsi d'aggiornamento gratuitamente che si terranno in tutte le città che avete visto in alto a destra. Quindi se siete interessati potete chiedermi ulteriori info su qui o direct oppure su info-samantapinna.it e spero di vedervi perché io sarò presente in quelle due giornate. Grazie. Grazie. Grazie.